Lanciato da quattro vittorie consecutive, un'escalation che non accadeva da oltre un triennio, Cittadella adesso rincorre una scintillante cinquina sabato pomeriggio alle 14 al tombolato, davanti alla sua gente contro il Cosenza. È una golosa opportunità per consolidare la zona play-off e attaccare addirittura al podio del campionato l'ingresso nell'elite. I Granata stanno viaggiando sui leali dell'entusiasmo, hanno rintracciato un solido equilibrio di squadra e un'identità di gruppo acclarata. E adesso stanno recuperando pure Baldini, che è ancora fatalmente in ritardo di condizione, ma nel giro di un paio di gare potrebbe essere, se non a pieno regime, almeno in uno stato di forma standard. E già questo fa tutta la differenza del mondo. Il vero acquisto di gennaio potrebbe essere proprio lui. Intanto col Cosenza sabato pomeriggio, rivale ostico e scorbutico, servirà organizzazione ed estrema pazienza, zero frenesia, tenuto e concentrazione difensiva ai massimi e concretezza offensiva. La capacità, cioè, di colpire al momento giusto, come accaduta a Piacenza contro la Feralpi Salò, ovvero l'atteggiamento della squadra matura, quello che ti consente poi di sognare e giocare a strabiliare.